Salve, benvenuti all'oroscopo del giorno. Incominciamo subito col primo segno che è a rete. Oggi dovete prendere una decisione, ma una volta presa dovete assolutamente mettervi all'opera per non mancare di attuare il vostro piano che è certamente produttivo. Toro, se cercherete di mantenere sempre un certo appeal in questa giornata, di certo alcune persone non si renderanno conto che non avete proprio idea di cosa inventarvi per risolvere una certa situazione. Gemelli, Se cercherete sempre le persone migliori per i vostri progetti, allora non riuscirete a portare a termine parte dei vostri piani, in quanto non potete pretendere il massimo ogni volta. Cancro, Siete unici con le vostre paure e le vostre paranoie. Tuttavia, non è detto che in questo momento della vostra vita dobbiate necessariamente pensare in modo negativo. Anzi, tutto sta volgendo per il verso giusto. Leone, Se volete godere di una posizione privilegiata in questo periodo, allora dovete prendere più sul serio le vostre responsabilità, altrimenti non avrete modo di attuare alcun piano che provveda una qualche remunerazione soddisfacente. Vergine, se volete raggiungere un piccolo traguardo in questa giornata dovete necessariamente prendere spunto da quello che vi hanno insegnato i vostri predecessori, oppure da quello che vi hanno insegnato i vostri superiori. Bilancia, Iniziare un nuovo percorso insieme alla persona che vi sta a fianco sia esso il partner o un collega, non significa stravolgere la vostra vita, ma semplicemente scegliere finalmente la via più giusta per raggiungere la propria felicità o la propria realizzazione professionale. Scoppione, Le persone con le quali in questa giornata vorrete parlare non saranno molto disponibili nei vostri confronti, ma non perché ce l'hanno con voi, ma soltanto perché non avranno tempo di affrontare certi argomenti. Sagittario, le persone che vi sono a fianco potrebbero avere bisogno delle vostre scuse, nonostante non abbiate fatto nulla di che per dovervi sentire in colpa. Talvolta basta soltanto mostrarsi in difetto per una questione di facciata. Capricorno, dovreste scoprire qualcosa di diverso in questa giornata, qualcosa che possa darvi quella marcia in più per ideare un nuovo progetto o per dare un tocco particolare a qualcosa di già avviato. Acquario, una persona speciale che sta dalla vostra parte in questo periodo potrebbe potrebbe dirvi qualcosa di molto intelligente in questa giornata che non andrebbe assolutamente sottovalutata, ma che anzi dovrebbe essere il punto di partenza delle vostre riflessioni. Pesci, la vostra felicità in questa giornata potrebbe dipendere in gran parte da coloro che vi sono vicini. e questo è normale, ma dovreste provare a non lasciarvi troppo sopraffare dai sentimentalismi altrui che per loro sono inutili. Grazie e per oggi l'oroscopo finisce qui e io vi ricordo di seguirmi sui miei social che sono, cominciando da Facebook la mia pagina che è Peppe Channel personaggio pubblico, poi su Twitch mi trovate come Peppe Channel trattino sotto real e poi infine su TikTok dove ho due account. Il primo è Peppe Channel trattino sotto real e il secondo è Peppe Channel trattino sotto gold. Ok? Un bacio. Ciao ciao.